Se stai cercando un appartamento che non sia il solito appartamento, ma con spazi più generosi per te e per la tua famiglia, magari in borgo, vicino ai servizi, in una zona tranquillissima, in questa che ha una strada chiusa, beh, rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in Borgo e più precisamente in una traversa di Piazza Bologna, siamo in via Cesenatico e qui si trova questo appartamento al piano primo servito ad ascensore con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, un'ampia terrazione dove mi trovo ora, dove mi vedete, due camere da letto, bagno, ripostiglio e lavanderia. Ma i pezzi importanti devono ancora arrivare perché al piano terra abbiamo il garage, al piano il semi interrato, la cantina e una tavernetta che adesso andremo a vedere assieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel reparto notte invece troviamo due ampie camere da letto, bagno finestrato con vasca utilizzata anche a doccia e ripostiglio e lavanderia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita.